Allora ragazzi, come va? Tutto bene? Io vi dico la verità. Non so voi, non so voi, ma io personalmente in questa società non mi riconosco più. Sarò asociale. Sarò fatto male. Sarò strano. Ma non riesco più a riconoscermi in questa società. Due anni fa ho deciso di staccare completamente, di vedere la televisione, ultimamente pure la radio, e sono staccato, mi sono proprio staccato, mi sono staccato, mi sono stufato. E cerco di essere più positivo possibile. È vero, per l'amor di Dio, che spesso faccio dei video dove io racconto la situazione economica. ma quando vi racconto la situazione economica vi dico delle cose oggettive. Io non potevo due anni fa, quando vi dicevo che ci sarebbe stata l'inflazione, raccontarvi che non ci sarebbe stata. Tre anni fa, quando vi dicevo che le lezioni che abbiamo fatto, di quelli che ci raccontavano, no, euro fuori dall'euro, no, Europa dei banchieri, vi dicevo guardate che questi, tempo due mesi, si mangiano tutto, si rimangiano tutti e arriverà il dragone. Io non potevo non dirvi questo, non potevo non dirvelo. Quattro, cinque anni fa non potevo non dirvi alcune cose che poi sarebbero successe, perché vi dovevo prendere in giro. Un conto è l'Ambrenedetto che fa dei video e vede qualcosa che magari gli altri non vedono. Io per anni, 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 c'è stato uno che per anni, 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 anni vi diceva e non venivo ascoltato. Guardate che i problemi per l'Europa, per l'Italia arriveranno da est, non da sud. Non sono stato ascoltato neanche lì. Vabbè, adesso anche lì ho avuto ragione. Però, quello che io vi voglio dire, un conto dobbiamo scindere quando io faccio certi tipi di video, perché non vi posso prendere in giro. Da quello che è invece io a livello personale, a livello personale, io a livello personale, ragazzi, vi posso dire che non mi riconosco più in questo tipo di società. Io sono andato l'ultima volta, ho dovuto andare, per forza, non è che... Sono andato a Milano, ho preso la metropolitana e vi posso garantire che ci sono volute due settimane per ritornare un attimino in me. L'altro giorno ero a Sesto San Giovanni, che ho dovuto andare a Sesto San Giovanni, e a un certo punto con gli amici, mentre ci attento, non riuscivo più a parlare, cioè ero talmente scioccato che balbettavo, balbettavo. Cioè io vedo in giro la gente, come diceva Leone di Lernia, la gente sbo, ve lo ricordo Leone quando diceva, la gente sbo. Non ci siamo, non ci siamo. Io veramente, veramente capisco chi decide di pigliare e decide di partire, isolarsi, andare, fare, cambiare vita, cambiare aria, perché ragazzi, io penso, credo, che i tempi siano maturi. I tempi siano maturi. siccome io queste cose le ho già provate più di una volta dentro, non puoi tenere dentro, perché la gente, ragazzi, o vi rendete conto o non vi rendete conto. Io capisco che ormai siamo entrati in una matrix. ma qualcuno di voi mi capirà. Magari qualcuno di voi si trova nella mia stessa condizione e onestamente a me non mi basta il bagno il bagno Mariuccia o il giretto al bagno Mariuccia. Capisco che può capire a qualcuno, che può capitare, eccetera, eccetera. Sono talmente arrivato ad un punto che non mi interessa più niente. Cioè, io guardo, guardo, vedo, mi interconnetto, dialogo con chi la pensa esattamente come me. Con chi la pensa come me. Chi non la pensa come me? Io non ho niente. Ma io mi interconnetto con chi la pensa come me, perché io ormai mi sono reso conto che sono, sarò, non lo so, una mosca bianca. Siamo delle mosche bianche, perché io penso e reputo che ci sia tanta gente anche come l'Ambrene detto, che si trova oggi in questa condizione e io vi do un consiglio. Cercate di eliminare la negatività. Andate con la gente positiva, frequentate gente positiva e soprattutto non guardate il mainstream perché vi bombardano di negatività che alla mattina, ma avete visto a che livello la gente è arrivata, le vendite in farmacia come sono schizzate di tranquillanti, quindi da questo punto di vista ragazzi, io il mio consiglio che ho da darvi è vivete la vita. Quindi io personalmente l'Ambrene detto ufficialmente, vi comunico ufficialmente che non mi riconosco più in questa società, ma voi pensate che a me non mi abbiano contattato? Cioè adesso sinceramente voi pensate che a me non mi abbiano contattato? Cioè se voi pensate che a me non mi abbiano contattato siete dei folli anche perché sanno benissimo chi sono anche quello che potrei fare e segui tutto se voi pensate che a me non mi abbiano contattato voi siete dei pazzi mi hanno contattato e come mi hanno contattato ma a differenza degli altri in portasega ok io non ho bisogno di notorietà non ho bisogno non mi interessa io voglio stare proprio fuori da tutto perché io non mi riconosco più in niente ok cioè anch'io noto vedo alcune cose rimango anche scioccato gente che parla di posti che non ci hanno messo piedi e mai ce li metterà che vivono una loro vita in una stanzetta ma non me ne frega contenti loro contenti tutti io non mi riconosco più in nessuna società bisogna costruire un mondo e un futuro diverso con un concetto differente questo è quello che vi voglio dire chi si trova nella mia situazione che non si riconosce più minimamente in questa società è arrivato a un punto in cui non gli importa più niente a me non mi interessa a me possono venire qua anche 50 100 mille persone per dirmi e dire no ma l'ha un benedetto ma non me ne frega niente ma fai la tua vita a me non mi interessa io continuo a dire io sono l'ultimo del mondo sono l'ultimo del mondo io non sono nessuno sono l'ultimo del mondo siccome sono una brava persona preferisco dedicare il mio tempo a qualcuno che ne ha bisogno e gli do una mano portandogli degli aiuti non ho bisogno di far vedere fare roba non ho bisogno me ne voglio staccare non me ne frega niente che perdere tempo andare che cosa a fare il pagliaccio in un programma televisione non me ne frega niente non perdo tempo io non ho tempo io voglio vivere la vita nel mondo reale ok e non mi riconosco più in questa società ditemi voi se siete anche voi come me che non vi riconoscete più in questa società io non mi riconosco più non mi riconosco più basta ormai il mio il mio circolo di conoscenze si è reaggruppato in pochissime persone perché il resto veramente basta